Dormire è bene, e poi il resto non so fare niente. Forse la cosa che so fare è che non so fare niente. No, credo che qualcosa la sappia fare, però deve uscire fuori questo mio lato pratico, pragmatico. Qualche abilità particolare nel prendere decisioni difficili. Quindi un lavoro che comprende il prendere decisioni difficili e azzardate. Bella domanda, qualcosa che ancora non lo so. Non ci hai pensato mai? Niente, ma un'inclinazione è qualcosa? Economia, perché mi piace trattare i soldi, diciamo. Anche a verdi soprattutto. A relazionarmi, a vivere in un ambito con molte persone, magari con pensieri diversi. E accettare tali pensieri. Prima ero un po' arrogante, anche tuttora. Però di meno rispetto al primo. Sei migliore. Eh sì. Laminetti. Nel senso... Fisico. 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 Ok. Fisico. 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 Fisico.